Ragazzi, un secondo prima di andare. Voglio dirvi solo a base di quello che abbiamo detto oggi. Ricordatevi mangiare molta frutta e verdura di tutti i colori, perché ognuno ha la sua importanza. Scusate cosa la frutta, i succhi, le caramelle, le chingham, e quelle buonissime bevande aromatizzate alla frutta. Come è bello mangiare la frutta, se è così io la mangio tutti i giorni, però non capisco una cosa. Di solito quando mangio troppe patatine e pomodoro, mia madre mi sgrida. Eppure il pomodoro è un frutto, anzi, precisamente un ortaggio. Non lo so. Vabbè, adesso è comunque il momento di andare a casa. Ah, comunque io passerò a prendere al bar un pacchetto di caramelle. Ottima idea, ricordati che devono essere di tutti i colori. Va bene. Arrivederci professoressa. Mamma, mamma, oggi a scuola la professoressa ha detto che dobbiamo mangiare tanta frutta e verdura. Allora sono andata al bar e ho comprato queste buonissime caramelle, che contengono la frutta e la verdura, quelle che mi piacciono tanto. Forse non hai capito bene, la frutta e la verdura non sono questo. Prova a pensarci, i broccoli e gli spinaci sono verdura, le mele e le pere sono frutta. Però ti posso dire una cosa, la frutta e la verdura hanno gli stessi colori dell'arcobaleno. Ricordalo, così non potrai mai sbagliare. Le caramelle contengono numerose vitamine e sali minerali. Tra le vitamine vi è un alta percentuale di vitamina C, che aiutano l'assorbimento del ferro. Il mandarino è molto ricco di vitamina A, B e C e diversi minerali, tra cui il magnesio, potasso, ferro e caramelle. L'ananas è ricco di proteine, vitamina A, B e C, invece il limone è ricco di potasso e vitamina C. Il qui contiene tanti sali minerali e guarisce tante malattie dell'occhio. Il ribesco le sue proprietà antinfiammatorie ha aiuto il sistema immunitario a difendere l'organismo da allergie e influenza. E tra tutti i frutti è quello con più vitamina C. Le bacche del mirtillo nero contengono acidi organici, vitamine A e C in quantità minore quella B. L'uva è il frutto della vita e ha acidi che formano un grappolo e contiene sali minerali e vitamine A, B e E ed è un antinfiammatorio. Mangiare ciò! Mangiare colorato! Mangiare ciò!